L'energia è palpabile qui al MIBAC. Il premio Terna 03 celebra i suoi vincitori. Megawatt, Gigawatt, Connectivity, Terawatt, Alternativi. Ai vincitori il tributo del Ministro Bondi, della Didi Terna, Flavio Cattaneo e del Presidente Luigi Rot. Ma qual è il senso della visione nella ricerca artistica dei vincitori? La visione non ha a che fare con quello che vedono negli occhi, ma con la cecità e la trasfigurazione. Credo che la mia ricerca sia legata molto al colore, quello che cerco dentro il colore. Io vivo quasi sempre in studio, mi muovo pochissimo e vivo così cercando una luce che trasforma il colore e cercando quel momento che alcune volte trovo in me, altre volte no, che mi dà l'immagine, che mi dà l'immagine del colore. La visione nella mia ricerca è il tentativo di ricreare, nel mio caso con la fotografia, un mondo che non esiste. Quindi il tentativo è quello attraverso la fotografia di rendere visibile qualcosa che non è visibile e certificarlo con questo mezzo. La mia ricerca volge sull'identità, sull'identità personale. Mi sono prima guardata dentro, prima di guardare fuori. In questo caso mi è venuta facile quest'opera perché ho ricercato l'identità del potere, l'identità dell'umanità al potere che veniva stravolta dalla natura. Penso che la connessione tra potere e future generazioni sia proprio l'aver captato in un periodo particolare della mia vita questa esperienza. Il senso della visione nella nostra ricerca è sempre stata quella di mettere l'arte al centro della società perché l'arte è ciò che permette alla vita di costruire il passato, il presente e il futuro. Grazie. Grazie.